Sull'impianto di Salanetti la regione con il comune di Capannori tira dritto. Lo ha messo nero su bianco la direzione della tutela dell'ambiente in una lettera inviata al comune di Porcari, contrario da tempo, alla piattaforma per il riciclo di assorbenti e pannolini, rispondendo a quanto richiesto dal sindaco Leonardo Fornaciari, ovvero di rinviare la conferenza dei servizi per, testuali parole, disparità di trattamento, con la motivazione di aver ricevuto la documentazione con ben 98 giorni di ritardo rispetto agli altri enti, la regione, nella lettera firmata dal dirigente Sandro Garro, replica che i tempi sono stati invece rispettati, essendo il preavviso per legge di almeno 20 giorni. E dunque si procede che a Porcari piaccia o no. L'ente di Palazzo Strozzi e Sacrati, infatti, rispondendo a Fornaciari che la richiesta di rinvio della conferenza dei servizi, che si è svolta regolarmente in mattinata, non poteva essere accettata, ha colto l'occasione per ribadire che l'iter per la realizzazione dell'impianto andrà avanti regolarmente.